Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino. Sabato 11 novembre 2017, pronti come sempre a leggere le prime pagine dei quotidiani locali, le prime pagine di quelli nazionali e poi chiaramente a sfogliare all'interno i quotidiani della nostra regione per poi rivedere alcuni servizi realizzati ieri dalla redazione del TG6. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa e andiamo con i quotidiani locali, le prime pagine intanto con le quattro edizioni del centro. Questa è l'edizione pescarese con il titolo d'apertura, mio fratello ha già perso tutto, parla la sorella dell'uomo a processo per la morte sulla 14 di figlia e compagna. Poi i richiami sotto la testata, economia, pensioni, boeri, redistribuirle dai ricchi ai poveri, la sentenza stupro di gruppo a Rimini, Butungo condannato a 16 anni, tre feriti in Francia, auto contro studenti all'uscita da un campus. Poi la fotonotizia al centro, Lucrezia Guidone da Pescara al Grande Cinema, l'attrice si racconta. Poi ancora alcuni richiami di cronaca, Francavilla a pugno in campo, l'avversario condanna a tre anni. Poi per la politica, bagno di folla per la Meloni a Pescara, in basso sempre a Pescara, ospedale, ecco chi sono i nuovi primari. Poi ancora di spalla, leggiamo per lo sport verso i mondiali, l'Italia va a K1 in Svezia, 1-0, adesso serve la rimonta. E poi la storia è quella di Fabio Grosso, uno che invece al mondiale ci è andato e lo ha anche, tra virgolette, fatto vincere alla nostra nazionale. Berlino, le Neule, la nuova vita a Bari, ecco Fabio Grosso. Torniamo alla cronaca, NAS nell'hotel dei rifugiati a Montesimano, Blitz dei Carabinieri nel centro di accoglienze. Poi in basso, l'Abruzzo e il lavoro, chef, medici, ingegneri, gli svedesi selezionano i nostri talenti. Aziende agricole, alluvioni, la regione stabilisce i criteri per i rimborsi. Infine, nel buongiorno a Bruzzo di Giuliano Di Tanna, dedicato a Piero Angela, l'ottimismo ormai è roba da vecchi. Vediamo successivamente l'edizione terramana del centro, l'apertura a padre e figlio di nuovo davanti al PM. Donna sparita a Giulianova, i santoleri saranno interrogati martedì. Martedì, la fotonotizia a Castelli, 854 mila euro per rifare le stalle crollate e il primo finanziamento a un'azienda per la ricostruzione. E poi richiami di cronaca, la Giulianova morta dopo l'operazione, oggi l'autopsia, la crisi in comune a Terra, l'opposizione, niente sfiducia se parte da Gatti. E poi in basso, oggi la protesta, sempre a Terra, la piazza Martiri negata al corteo per l'acqua. Poi ancora per lo sport, basket, Roseto stasera a Bergamo, a caccia dei primi punti. Ora vediamo l'edizione di Chieti del centro, imprenditore sequestrato e rapinato, a San Salvo minacciato con la pistola, spariti gioielli e 50 mila euro. E poi la fotonotizia, parata di Stelle a Chieti per la stagione del Marrucino, questo è il cartellone di prosa del bicentenario. E poi a Francavilla, pugno in campo, l'avversario in fritti tre anni. E poi abbiamo visto, questo è stato anche il titolo d'apertura dell'edizione di Pescara, mamma e figlia morte sull'A14, il dramma del papà, parla la sorella. Ad Atessa, nuovo Ducato alla Sevel, la Will serve personale. Vediamo ora l'edizione dell'Aquila del centro, con il titolo d'apertura. Tornano in centro 150 attività all'Aquila, negozi e ordini professionali nel bando della regione. E poi la fotonotizia, Manuela Arcuri, madrina della festa dei settantenni a Luco. Eccola qui, Manuela Arcuri, in questa foto di gruppo alla festa Luco dei Marsi. Poi i richiami, l'Aquila, diagnosi errata, l'ASL paga il risarcimento, Avezzano tassa dei rifiuti 5.000 evasori ad Avezzano. E poi in basso a Sulmona, liceo Ovidio, ristrutturazione ancora bloccata. Per lo sport, calcio di serie di L'Aquila, 20 giorni per non smantellare. Ed ora il messaggero Abruzzo. Ecco l'apertura, baby rapinatori, allarme rosso. Pescara, ragazzino di 16 anni, rapina un coetaneo minacciandolo con un coltello. Dalle sprangate i fugni sferrati a tradimento. In città scatta l'emergenza delle gang. Poi sotto la testata, Martinsicuro viola la malattia in 400 foto per trovare la forza di sopravvivere. A Chieti si alza il sipario sul Marrucino, una stagione coraggiosa. E poi per il calcio di serie B, Canutè vuole una maglia per la sfida con Grosso. Sotto la sua guida nella primavera bianconera sono cresciuto molto. Ora in biancazzurro mi piacerebbe segnare il primo gol contro di lui. E poi di spalla leggiamo una mappa per cercare i tesori d'Abruzzo, la regione al WTM di Londra. Le nostre meraviglie su filmati, spot online. La foto, notizia, la politica. Giorgia Meloni lancia Fratelli d'Italia in consiglio comunale calata di Big Veltroni al mercato di Via Muzzi. E poi tornando alla cronaca, amo mia moglie, non avrei mai potuto ucciderla. Giulianova parla Giuseppe Santoleri, il figlio Simone, mai toccato mia madre. E poi verso il voto, leggiamo in basso sempre sul messaggero, la prima pagina, verso il voto risico collegi per i candidati. La prima pagina della città che ha un tema ben definito nel giorno della marcia per l'acqua a Teramo. Ecco qui l'Abruzzo in piazza per l'acqua. Oggi a Teramo il corteo per chiedere lo stop all'esperimento radioattivo nei laboratori. E poi c'è anche questa vignetta che campeggia al centro della prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Questa vignetta che appunto dice l'acqua pulita fa mattì. E poi l'editoriale del direttore Alessandro Misson, manifestiamo per l'acqua. Alcuni richiami sotto la testata. Tua, proteste per i viaggi insicuri nell'entroterra, utenti preoccupati per la sicurezza dei mezzi. A Giulianova i Santoleri di nuovo in procura. A Teramo il comune vuole sanare i furbetti del terremoto. E per lo sport, in basso leggiamo che Eidi tiene inanzi il terramo. Asta tiene pronto. Alto Belli. E ora vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziando, come vedete alle mie spalle, dal Corriere della Sera. Ecco l'apertura. Nuovo assalto alla manovra. Caos sulla tassa per i rifiuti per un'utenza su dieci bollette gonfiate dai comuni. Quattromila emendamenti dal bonus breve alla lotta al cancro con le imposte sul fumo. E poi sotto la testata leggiamo intanto per lo sport. L'Italia cade in Svezia, mondiale più lontano. Lunedì il ritorno a Milano. La svolta, ecco il piano del Milan, per rifinanziare il debito, il ruolo di Giraudo. E poi per la politica, il sondaggio. I 5 Stelle salgono al 29,3%. Il centrodestra domina nei collegi PD al 24,3%. E poi la fotonotizia in Vietnam. Incontro Trump-Putin, solo una stretta di mano. I due leader al vertice dei paesi del Pacifico. Possiamo passare alla prima pagina di Repubblica. Ecco l'apertura. Rivoluzione del fisco. Ruffini cancellerò il 7,30. Troppe le tasse inutili. L'intervista del direttore delle entrate. Mai più condoni. Manovra web tax al 6%. Aumentano le sigarette. E poi la fotonotizia, anche in questo caso con la stretta di mano tra Trump e Putin. Vietnam. Trump cerca alleati contro la Cina. Stretta di mano con Putin, ma salta il vertice bilaterale. E poi un'altra fotonotizia. a Abu Dhabi. Viaggio nella sede progettata da Jeanne Novelle. Da Leonardo al Corano. Ecco il Louvre d'Arabia. E poi in basso lo sprofondo azzurro. Mondiali sprofondo azzurro. La Svezia batte 1-0 una piccola Italia che ora rischia l'eliminazione. Siamo alla prima pagina del messaggero. Tasse non versate. C'è la sanatoria. Gli emendamenti alla manovra. Rottamazione anche per i semplici avvisi del fisco. La web tax al 6%. Stop al balzello per i biglietti aerei. Pensioni prolungata. L'Ape social. E poi sotto la testata. Play-off per Russia 2018. L'Italia sconfitta dalla Svezia. Serve la rimonta. La fotonotizia. Sciopero in difesa dei privilegi. Roma si ferma. Ma Milano no. Venerdì nero per la paralisi dei trasporti. Ostia ai seggi con i militari. Sbanda la marcia dei politici. Ballottaggio blindato per rischio clan. IPM. Spada profilo da boss. Poi ancora in basso. Un'attrice denuncia l'accusa di molestie per Fausto Brizzi. In campo. Gli avvocati. La prima pagina del tempo. Nervosi e Rossiconi. Io non mollo. Parla Pirozzi. Sindaco di Amatrice. Neocandidato risponde al fuoco amico. La gente mi vuole alla regione. Ne farò visitare dallo psicologo. Chi mi critica. La fotonotizia al centro. Soldi non dovuti. Nuvola di guai per Fuxas. La Corte dei Conti manda a processo. L'Archistar e gli ex vertici di EUR SPA. E poi in basso. Ecco i candidati di Forza Italia. Quelli che la lasciano. La lista di Berlusconi. New Entry. Ripescati. Società civile. Amministratori. Sorprese e delusioni. Tutti i nomi per lo sport. Italia fatta a polpette dalla Svezia. La stampa che apre così. Banca Etruria. Dietro la rottura. Visco Renzi. Così via nazionale prepara la difesa. Draghi. Nessun allarme fu ignorato. Duello sulle deposizioni di Consoli e Zonin. Ma campeggia al centro. In grande evidenza la fotonotizia. Poveri Azzurri. Mondiale più lontano nell'andata degli spareggi per la fase finale. La nazionale perde con la Svezia per 1 a 0. E poi in basso. Un voto 25 euro. Nuova bufera in Sicilia. Indagato un neo eletto. Re delle preferenze nelle liste di Micari. a Ostia per il ballottaggio del 19. Convocato il comitato di sicurezza. Della sicurezza con la procura antimafia. La prima pagina del fatto quotidiano. Ostia PD isolato. Ampi. Emiliano. Ebersani con raggi contro i clan. Il leader di MDP. Manifestare è un dovere. Il governatore avrei aderito. E poi sotto la testata due articoli. Due titoli che leggiamo. L'antenna abusiva di DJ per oscurare i concorrenti. La guerra dell'Etere. Rivenuti in una intercapedine di un impianto del Lazio. Due trasmettitori non autorizzati. Radio Rai. 6% flop di Carlo Conti. Poi in basso l'inchiesta. L'imbuto della cittadinanza. 265 mila richieste bloccate. Il tilt dello Ius Soli che già c'è. Libero. La sua prima pagina. Ci rubano anche sui rifiuti. Bollette gonfiate. In un comune su tre da Milano a Napoli è stato applicato per errore un meccanismo che ha rincarato le tariffe. Risultato. Molte famiglie hanno pagato il doppio per l'immondizia. Che schifo. Siamo governati da cialtroni. E poi la fotonotizia. Il presidente del Senato svampito. Grasso superfluo. In basso. No fumo in Vaticano. Meglio i pedofili. Il Papa vieta solo le sigarette nello Stato pontificio. Avanti con avvenire. Ecco il titolo d'apertura. Mossa da Serie A. Sospeso lo sponsor. Bloccato il contratto azzardato con i russi illegali. La lega calcio del commissario Tavecchio e la società Infront prendono atto che One for Bet non può operare in Italia. Stop all'operazione. Poi il Papa la paura nucleare minaccia reale all'umanità. Avanti ancora con la verità indagata anche la madre di Renzi. Sospetti sul fallimento di una cooperativa. L'iscrizione nel registro di Laura Bovoli che è stata segretata dalla procura di Firenze. Collegata alla visita della finanza rivelata dalla verità nell'azienda di famiglia. a suo marito contestate pure fatture sospette. In basso per anni ci hanno fatto pagare la tassa sui rifiuti. Gonfiata del 50%. Andiamo ora sul sole 24 ore. Le banche cedono 60 miliardi di NPL. La Commissione UES valutazioni obbligatorie solo sui crediti futuri. Nelle trimestrali e l'accelerazione degli istituti italiani. I piani di vendita e recuperi entro il 2019. Andiamo verso la chiusura della rassegna stampa dei quotidiani nazionali. con le ultime due testate. Il manifesto, i conti senza ostia. Ecco qui l'apertura. Minniti ordina controlli per il ballottaggio. Il prefetto convoca il Comitato per la Sicurezza. Si corre a ripari in un territorio lasciato dal controllo criminale. Ieri si tindi i cronisti. Oggi la manifestazione è lanciata dalla sindaca con l'adesione di MDP e Sinistra Italiana. Ma ostia ci andrà. Poi andiamo a chiudere con il mattino. Universia di Paletti di Cantone. Un'occasione per la campagna. Non va strumentalizzata dalla politica. Il Presidente dell'ANAC. Il tempo stringe subito il commissario. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali. Pagina 2 del centro. Con un titolo che dopo la partita di ieri sera può suonare quasi come Beffardo. Ecco qui. Abruzzo è il lavoro. Chef, maestri, medici e ingegneri. La Svezia vuole i nostri talenti. E potrebbe anche soffiare il mondiale all'Italia. Aggiungiamo noi. In 70 hanno risposto alla procedura di selezione promossa a Pescara da Eures e Ampal. Subito scelti da un ristoratore di Malmò. Due ragazzi esaminati in videochiamata su Skype. Poi tutti in Lizza. Giovani e over 50. C'è chi cerca nuove opportunità. E chi vuole costruire un avvenire per i figli. Tra i candidati diverse persone non più giovanissime alle prese con impieghi stagionali. Ragazzi laureati in cerca della prima occupazione nel paese nord europeo. Sono arrivati da tutto il paese. I partecipanti alla terza e ultima tappa della Swedish Week dopo quella di Venezia e Bologna. E poi avanti aziende agricole. Fondo di 4 milioni per i danni da alluvione. La regione approva i criteri per le assegnazioni. E poi ancora in 100 al sit-in dei sindacati di base Frittelli, Abruzzo abbandonato dai governi e dalla politica nazionale. Di Vincenzo, eletto presidente dell'ISNART, l'Istituto Nazionale di Ricerche sul Turismo. E ora le pagine di Pescara. Una famiglia spezzata. Mio fratello ha perso tutto. Il processo è l'ennesima batosta. Antonella Ristone, Angelo è paraplegico. Non ha più figlia e la compagna. La vita è distrutta. Come si fa a mettere mi piace sotto la notizia così, dice sempre la sorella dell'imputato. Il ricordo di Vittoria, una bambina spiritosa, affettuosa, di una sensibilità unica. E poi ancora la difesa che poggia appunto su questo aspetto. Non correva. Il guardrail non ha retto. L'avvocato Sabatino Ciprietti assiste il 42enne a giudizio per omicidio colposo. Quel tipo di barriera che ha causato morti in tutta Italia andava sostituita. E poi sempre il difensore, dice il telepass che ha registrato l'orario di entrata dell'auto sulla 14. La prova che non superava gli 80-90 km orari. Avanti ancora e siamo a Pescara. Barca rubata sotto le telecamere. Tre ladri in azione sul lungo fiume. Due hanno fatto da palo. Il terzo si è allontanato con il natante. E poi ancora minaccia a coetaneo col coltello e la rapina. Si porta via bici e cellulare. Arrestato un sedicenne. Mentre da parte dei carabinieri controlli nelle scuole trovati Ascish e Mariuana. Ospedale Spirito Santo Mancini presenta i cinque nuovi primari. Sono tutti medici pescaresi tranne il campano Mangiola. Prossime nomine a radiologia, nefrologia e rianimazione. I professionisti già in carica dal primo settembre scorso. Sono stati presentati ufficialmente dal manager nella sede della direzione generale dell'azienda sanitaria. Ricoperti tutti gli incarichi delle unità operative di chirurgia vascolare, laboratori analisi, reumatologia, neurochirurgia, pneumologia e fisiopatologia respiratoria. Avanti ancora. Basta con le piste ciclabili. Aiutiamo i malati terminali a morire bene. Tutto questo è un appello lanciato al centro da un cittadino di Scafa. E poi ancora per la politica. Siamo a pagina 19. Giorgia Meloni a Pescara ricompatta il centro-destra. La Presidente nazionale dei Fratelli d'Italia riempie la sala consigliare del Comune. Salute il passaggio al suo partito dei consiglieri Testa, Cremonese e Pastore. Vediamo il servizio del Tg6. Ufficializzato questa mattina nel corso della visita di Giorgia Meloni a Pescara, il passaggio dei tre consiglieri comunali della lista Pescara in testa, Fredo Cremonese, Massimo Pastore e Guerino Testa in Fratelli d'Italia. Un momento importante per il centro-destra cittadino che punta al governo tra quasi due anni. Soddisfatta la leader nazionale accolta a Palazzo di Città da numerosi militanti. Qui soprattutto per annunciare l'adesione a Fratelli d'Italia di un gruppo importante che è il gruppo Pescara in testa, quindi tre consiglieri comunali, Guerino Testa, altri due, tutti abbastanza noti, che scelgono la strada di Fratelli d'Italia, cioè di un movimento che nel centro-destra sta dando la priorità agli italiani, ai loro bisogni, ai loro interessi e che secondo noi può rappresentare la vera novità delle prossime elezioni politiche. Il risultato delle elezioni regionali in Sicilia ha confermato, ha detto la Meloni, che il centro-destra unito può vincere. Per un centro-destra che si presenta compatto ma su una proposta chiara, quello che dimostra la Sicilia, che hanno dimostrato altre competizioni e che non è vero che si vince con le proposte anacquate e prive di identità, è vero l'esatto contrario, si vince avendo il coraggio di dire la verità, di dire le cose come stanno, di affrontare le veri questioni che riguardano i cittadini e io sono contenta del risultato siciliano perché ci dà un'idea chiara di che cosa bisogna fare in futuro. Non è mancato poi l'accenno del leader di Fratelli d'Italia ai gravi fatti di Ostia e la presa di distanza di Fratelli d'Italia dall'accaduto. Beh, dispiace che si debba fare una campagna elettorale parlando sostanzialmente del comportamento sicuramente di una persona che non è una brava persona. Voglio ribadire che noi nulla abbiamo a che fare con gli spada, nulla abbiamo avuto a che fare con loro mai. Noi combattiamo la mafia a 360 gradi su tutto il territorio nazionale dall'inizio della nostra storia politica. Ad Ostia lavoriamo per far vincere Monica Picca che come noi combatte la mafia e vuole combattere la criminalità a Ostia in un territorio abbandonato che ha bisogno di risposte. Sempre sul centro tornano le fiere storiche per ristoratori e radioamatori e le manifestazioni da domani al 26 novembre nei padiglioni di via Tirino. E poi ancora sempre a Pescara pugno in campo condannato a tre anni. Il fatto durante la gara di calcio Juniors Scaffa Francavilla, giocatore anche in interdizione dai pubblici uffici. E poi in basso a Cepagatti e Aushan, 70 posti di lavoro in più, inaugurata la nuova galleria commerciale del Borgo d'Abruzzo. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Montesilvano, l'inchiesta sugli immigrati Nassa, l'ex Celsior perquisita la sede della Coop ETA-Beta, blizze dei carabinieri nel centro di accoglienza che ospita 150 rifugiati, un esposto presentato dal gruppo Agliano. Poi di Spalla, i tre sindaci scrivono ad Alfonso, nascita della nuova Pescara, anche Alessandrini ha dubbi. Tre sindaci, Alessandrini, Maragno e Dilorito di Pescara-Montesilvano e Spoltore rispettivamente. Andiamo avanti, corsa contro il tempo per soccorrere un'anziana. A Villa Cegliera, in mancanza di ambulanze disponibili, si è alzato l'elicottero del 118, l'equipaggio, atterrato a Penne, è stato trasportato in auto dai carabinieri. E poi a Penne, Piano Neve, il Comune cerca le ditte per pulire le strade. Avanti con la pagina di Chieti, siamo in provincia di Chieti, più precisamente a San Salvo Marina, sequestrato e rapinato mentre rientra a casa. L'imprenditore Fabrizio, 80 anni, minacciato con la pistola da due incappucciati, è rimasto legato per 15 minuti dalla cassaforte, spariti gioielli e 50 mila euro. In basso Manzi, Sevel Invest in tecnologie e operai, attessa la fabbrica verso la produzione del nuovo Ducato, l'esponente della Wilm, dice serve programmazione. Andiamo alla pagina dell'Aquila, dove l'argomento è il futuro della città. Tornano dentro le mura 150 tra negozi e imprese. Anche gli ordini professionali bustano alla regione per il bando Farecentro, il vicepresidente della regione Lolli, iniziativa di successo perché frutto di concertazione. In basso, diagnosi sbagliata, la ASL paga i danni. L'azienda sanitaria è condannata a versare 40 mila euro ai familiari di un ragazzo curato male. E infine la pagina Teramana, con la donna sparita Giulianova, i santoleri saranno di nuovo interrogati. Padre e figlio indagati per omicidio tornano martedì davanti al PM. La loro versione non convince gli inquirenti. E poi in basso, piazza Martiri negata al corteo per l'acqua. Oggi in città la manifestazione ambientalista che si chiuderà a Sant'Anna, accuse al comune. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Prima però le previsioni del tempo. Dopodiché ci ritroveremo con la seconda parte di mattino 6 e sfoglieremo le pagine del messaggero Abruzzo e della città. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Da punto di vista politico iniziano le manovre, come leggiamo, elezioni, rebus, collegi per i candidati. Per la Camera si ipotizza lo scontro tra Chieti e Sulmona. Buona chance ai candidati ben radicati a Pescara. Senato, aree uninominali Chieti-Pescara e l'Aquila-Teramo, un ambito regionale per quanto riguarda il proporzionale. E poi per l'enogastronomia, borgo rurale, invasione per festeggiare i vent'anni. Andiamo ora alle pagine di Pescara e provincia. Abbiamo visto anche in precedenza il servizio con Meloni per tornare a governare. È una giornata straordinaria, dice l'onorevole, il simbolo di Fratelli d'Italia, entra in consiglio comunale con i tre acquisti, Testa, Cremonese e Pastore, accolti in Fratelli d'Italia dalla leader del partito in un'aula consigliare stracolma. Qui per un centrodestra unito, Giorgia sarà premier, il popolo ex AN e PDL ritrova appartenenza e identità. Stoccate poi alla Raggi, auguri a Musumeci, le battaglie a difesa del Made in Italy e il no al mercato etnico a Pescara. E poi, sempre sul fronte della politica, Sospiri resta con Forza Italia per ora, mentre l'ex sindaco di Montesilvano, Lillo Cordoma, va con Salvini. Di spalla, nuova Pescara, tra vantaggi e obiezioni dei tre sindaci, posta alla Regione l'esigenza di chiarire dempimenti, finanze e pianificazioni rispettando il ruolo dei consigli comunali. Poi, sul fronte ospedale, il manager Mancini lancia in pista cinque nuovi primari, cambia la guida per chirurgia toracica, laboratorio analisi, reumatologia, neurochirurgia e pneumologia. Qui vediamo i nuovi primari, Antonio Antico, Giancarlo Diorio, Marco Gabini, annunziato Mangiola e sotto Luigi Mosca, nelle cinque foto sul messaggero Abruzzo. Restiamo sempre a Pescara, con la cronaca, baby rapinatore a 16 anni, arrestato sotto la minaccia di un coltello, si è fatto consegnare cellulare e soldi da un coetaneo a marzo, l'arresto per i ride sulla riviera, senza fine non data di violenza a minorire, il criminologo Francesco Sidoti va ritrovata la cultura dei doveri. E poi ancora, in basso, subito rintracciato dal volante, in base alla descrizione della vittima, è stato rinchiuso in un istituto. Bello pedalare all'annunzio, l'Università lancia il bike sharing a Viale e Pindaro, da ieri 20 mezzi a disposizione degli studenti che potranno usarli gratis per un giorno, il Rettore Caputi, un servizio in più, è un modo per incentivare i sistemi di mobilità sostenibili. Siamo sempre nelle pagine di Pescara, Veltroni a sinistra, basta tirarsi i piatti, io mai più in politica. Il fondatore del Partito Democratico al FLA per presentare il nuovo romanzo Quando aiuta a liberarsi dal passato. Poi ancora, in basso, nessun commento sulle dichiarazioni di Pietro Grasso, io e Pescara, da qui partì la sfida delle elezioni del 2008. E poi ancora, in basso, leggiamo per lente manifestazioni iniezioni di 194 mila euro. Andiamo avanti e siamo a L'Aquila, le pagine dell'Aquila. Non cedo a ricatti, sicurezza prioritaria, è ovvio che non potremo fare nulla senza prima creare entrate alternative. Intanto si va profilando una battaglia per realizzare il lotto C della variante Sud. Da breve cominceranno i lavori per costruire cinque rotatorie lungo l'arteria. E poi in basso, Movida Violenta in tre a processo, la rissa a maggio di due anni fa, nei pressi di un locale del centro storico. E poi ancora, sempre restando a L'Aquila, rientro in centro. In 150 ottengono i fondi presentati, i primi risultati del bando attivato dalla Regione, pronti 7 milioni per chi era presente alla data del 6 aprile. E' cominciato l'esame delle 527 istanze presentate da chi vuole aprire nuove attività. Poi in basso, mancanza di uno spazio da 600 posti, rischio esilio per altri grandi concerti, in ansia la Baratelli ma anche l'ISA, ma niente polemiche. Proseguiamo, siamo in Marsica, Summit Giustizia. La Chiavaroli non arriva, l'assenza della sottosegretaria attesissima al convegno a Castello Orsini, riapre i dubbi sul salvataggio del palazzaccio marsicano. Con la sanità e i treni, i problemi restano tutti sul tappeto. In attesa della decisione a febbraio del Consiglio di Stato, il sindaco di Avezzano De Angelis ha ancora tempo per lavorare per la città. E poi ancora a Sulmona, parcheggio a pagamento abusivo. Scatta l'indagine, spuntato davanti alle palazzine Rubeo, con tanto di blocchetto ricevute. Recante lo stemma civico. Proseguiamo e siamo alle pagine di Chieti. Una stagione coraggiosa su il stipario al Marrucino, presentato da Deputazione Teatrale e ACS. Il cartellone della prosa con grandi nomi, spettacoli anche per ragazzi e d'avanguardia. La convenzione con le attività commerciali. Fiorenza, un punto di attrazione particolare. Il via dal 6 gennaio tra le star, preziosi, viloresi, fantastichini, popolizio, orsini e marchioni. Poi di spalla, era agli arresti domiciliari in fuga verso le slot machine. Massimo Capuzzi, arrestato dai carabinieri per evasione, è stato scoperto in una tabaccheria. Poi in basso, l'Ateneo assume studenti e boom di domande. Ben 907 richieste per 143 posti. La d'annunzio potrà impiegare i ragazzi negli uffici amministrativi. E poi ancora a Lanciano, o meglio nella Frentagna, Honeywell, la solidarietà è mondiale. Donazioni ai 420 lavoratori in sciopero e appoggio dal sindacato internazionale. Dopo 54 giorni di presidio permanente, si spera nel tavolo tra ministro e azienda, il 14. Vediamo il servizio sulla Honeywell. C'è attesa per l'incontro annunciato dal governatore D'Alfonso per il prossimo 14 novembre tra il ministro Calenda e la multinazionale americana. Un incontro solo telefonico. L'RSU, Fium, Fium e Wilm della Honeywell si aspettano l'apertura finalmente di una trattativa al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. È l'ottava settimana dello sciopero Oltranza, con presidio permanente davanti ai cancelli della fabbrica dei turbocompressori in Val di Sangro. Alessio Di Giovanni Wilm e Luciano Ianni, Fium. Il punto della situazione ad oggi è un punto ancora morto, perché l'azienda dal 13 di settembre nega l'incontro con i lavoratori. Siamo rimasti lì, a Roma, dove la proprietà aziendale non dava risposte. Ci sono stati dei vari incontri, però, tra azienda e miniziero. Ad oggi la data del 14, data dal ministro D'Alfonso, che segna come una data di call conference tra l'azienda e sempre il miniziero, attenzione, sempre il miniziero, non ancora incontro con i lavoratori, potrebbe essere una data di svolta in cui vengano forniti nuovi elementi per la nostra vertenza. I lavoratori nel frattempo rimangono fuori, sappiamo le difficoltà, ma lo devono fare per le loro famiglie, quindi sono molto determinati. Questa lunga attesa porta sicuramente ad avere un pensiero, qualcosa per una risoluzione a breve di tutta questa vertenza. Speriamo sicuramente in senso positivo, in un senso che è chiaro che l'azienda che ha messo su un investimento così enorme, pachitermico, difficilmente potrà tornare dietro, però se c'è una ferma volontà di mantenere in piedi il sito, nessuno vieta di cercare di orientare su qualche altra cosa. L'importante è che l'azienda si esprima in un modo molto chiaro che ha interesse a rimanere sul nostro territorio, dopo che siamo pronti a discutere su tutto. Due mesi senza stipendio cominciano a pesare sulle famiglie, soprattutto per le monoreddito. L'associazione Salviamo la Honeywell, fondata dagli stessi lavoratori, sta raccogliendo la solidarietà che giunge da operai di altre fabbriche, non solo della Val di Sangro, dai comuni del Comprensorio Sangrino e oltre, dai sindacati nazionali e internazionali. Ma non basta, una nuova iniziativa è per sabato sera al Teatro Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo e il libretto di papà della compagnia di lettanti allo sbaraglio di Guastameroli. Antonello Tritapepe, RSU Film. Diciamo che cominciamo anche noi, anche noi come RSU, ad avere grossi problemi ad arrivare a fine mese perché purtroppo i pagamenti incombono, le bollette incombono, i mutui incombono. Speriamo che la risposta della cittadinanza sia numerosa e volevo ringraziare un attimino un po' tutti quelli che hanno versato dei fondi nella nostra associazione, a partire dai comuni, dalle persone normali, alle aziende, alle associazioni che ci stanno supportando in questo momento e un grazie a tutti. E sempre nel Chietino a San Salvo Marina, rapina, mano armata, portati via a denaro e gioielli per 40 mila euro. Imprenditore ottantenne minacciato con la pistola è costretto ad aprire la cassaforte. Le pagine terramane del messaggero Abruzzo, caso Gran Sasso. E' il giorno della grande manifestazione, attese migliaia di persone per l'evento voluto dall'osservatorio indipendente, mobilitazione generale in centro contro esperimenti che mettono a rischio l'acqua. Sindacati, partiti e associazioni si danno appuntamento in Viale Mazzini, l'arrivo previsto in Piazza Sant'Anna. E poi ancora non è individuata una strategia ben precisa di messa in sicurezza. La situazione è poco chiara. E poi di spalla leggiamo i ZS, unico procedimento per l'ex direttore caporale, riuniti i due fascicoli per l'accusa di truffa e peculato, lui un disguito con gli uffici amministrativi. E poi sempre di spalla, la Riccitelli al Pala San Nicolo fioccano le proteste dei club, mentre per la politica i 5 Stelle, illegittima la nuova giunta Brucchi. Siamo a Giulianova, Simone è un buono, ha aiutato il padre. Pittrice è scomparsa, l'avvocato Caradori racconta l'indagato, ha accolto il genitore in casa quando prima dormiva in auto. Giuseppe è sotto sciocco, io voglio ancora bene a mia moglie, impossibile pensare che possa averle fatto del male. Entrambi gli uomini sono inquisiti per l'omicidio della Rapposelli, ma il corpo non è stato ritrovato. E poi sempre a Giulianova muore dopo l'intervento alla schiena, regina di Silvestre si era operata in una clinica del Riminese, non si è ripresa dall'anestesia. E poi in basso a Martinsicuro fotografie ogni giorno della sua malattia, così ho trovato la forza per sopravvivere il calvario di Viola, la speranza in 200 scatti. Possiamo lasciare il messaggero Abruzzo, passiamo ora alla città, il quotidiano della provincia di Teramo e si riparte ancora dalla manifestazione per l'acqua, tutti in piazza per difendere l'acqua. Questo pomeriggio a Teramo ha la manifestazione per chiedere trasparenza e sicurezza nel cuore del Gran Sasso e l'amministrazione però non ha concesso piazza Martiri per la chiusura del corteo per la concomitanza con un altro evento. E poi ancora la nota in basso, i laboratori ribadiscono la sicurezza dell'esperimento disponibile a compiere tutti i passi che possano rassicurare istituzioni e popolazione. Allora vediamo il servizio di presentazione del corteo per l'acqua. Grande marcia a Teramo per la trasparenza e la sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. Sono attese 5.000 persone in città per ribadire la necessità di interventi urgenti che proteggano i 700.000 abruzzesi dall'interferenza strutturale che purtroppo esiste tra acquifero, autostrada e laboratori di fisica nucleare. Domani manifestate perché? Manifestiamo per la messa in sicurezza del bacino più importante nel centro Italia. Manifestiamo quindi per ribadire come l'acqua ci hanno insegnato fin da bimbi essere trasparente e non la vogliamo. La messa in sicurezza, la partecipazione maggiore della società civile visto che dopo il commissariamento di 16 anni fa ci ritroviamo nella stessa situazione di partenza che ancora quelle potenziali fonti di inquinamento che sono da una parte le autostrade e dall'altra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ancora non sono state sufficientemente messe in sicurezza. Quante persone parteciperanno secondo voi domani? Ma noi ci auguriamo che questa città dopo una fase di emergenze che parte dal maltempo poi il terremoto, anzi prima il terremoto e il maltempo, in questa manifestazione riesca a esprimere una grande partecipazione perché parliamo di un bene così importante come l'acqua e soprattutto perché in questo caso è una prima opportunità veramente di ribadire come questo territorio vuole passare all'ordinare amministrazione, cioè iniziare a pensare a quello che sarà il domani con molta più fiducia rispetto a quello che è stato il passato e anche il presente. La manifestazione terramana è stata organizzata dalle più importanti associazioni ambientaliste nazionali e locali e ha visto l'adesione di tutti i comuni della provincia di Teramo, della provincia stessa, di comitati, di sindacati e forze politiche. Del resto l'acqua che sgorga dal Gran Sasso è di altissima qualità tra le migliori d'Europa. L'Abruzzo può vantarsi di possedere una risorsa tanto preziosa ed oggi così rara. È sacrosanto dunque chiedere di proteggerla per noi stessi e per le future generazioni. Sempre sulla città, parliamo della crisi al comune di Teramo, opposizioni non disponibili all'inciucio. Le liste PD, Teramo cambia, insieme possiamo, dalla scorsa primavera chiediamo le dimissioni di Brucchi. Il presidente Milton di Sabatino replica ad Alberto e Brucchi, sono super partes e oltre al ruolo istituzionale sono pur sempre un politico. Quote rosa per Bernardini dei 5 Stelle, la giunta è illegittima perché le donne non sono rappresentate con la quota del 40%. Poi in basso il premier Paolo Gentiloni, martedì sarà a Campri, il premier inaugurerà i lavori di collegamento alla rete internet ultraveloce. Il comune, siamo a pagina 5, vuole stanare i furbetti del sisma dopo i casi di irregolarità nell'erogazione del CAS, chiesta la rendicontrazione puntuale agli sfollati. Poi ancora un tappeto salverà il parquet del Palazzo a Nicolo dopo le proteste degli sportivi sfrattati della stagione teatrale. Il comune corre ai ripari con una copertura. Avanti ancora, lunedì sarà il caos all'uscita delle scuole. La dirigente del principale istituto cittadino scrive ai genitori e poi al ministro per chiedere come comportarsi. Noi leggiamo il mondo della scuola, dell'obbligo in fibrillazione per ciò che accadrà lunedì quando gli alunni non potranno più lasciare la scuola se non riconsegnati direttamente ai genitori o ad un loro delegato, visto che una sentenza della Cassazione ha ribadito che in caso di incidente, anche nel tragitto che porta allo scuolabus, la responsabilità resta in capo al personale scolastico. Avanti ancora, siamo sempre a Teramo, via al processo sui rimborsi in debiti all'Izietà, essere contestazioni all'ex direttore Vincenzo Caporale riunite in un solo procedimento. Ora le notizie dalla provincia, viaggiare insicuri per 140 km al giorno, proteste dei viaggiatori sulla linea Valvomano-Bisenti-Teramo-Bellante. E poi ancora a Sant'Egidio la Vibrata per la politica, Sirio-Talvacchia entra in Abruzzo Civico, l'ex vice sindaco e ora consigliere di maggioranza passa con Sottanelli, e l'ingresso nel gruppo civico potrebbe favorire una sua eventuale candidatura a primo cittadino. E poi ancora a Giulianova i santoleri convocati ancora in procura, martedì mattina interrogatorio per i due giuliesi indagati. La testimone, una farmacista di Tortoretto, ha detto di aver visto la pittrice il pomeriggio del 9 ottobre scorso. E poi ancora a Silvi, via Libera allo sversamento in Mare dei Fanghi, il comitato regionale approva il progetto che prevede il deposito allargo del Parco Marino del Cerrano. E poi ancora mobilità sostenibile, ciclabile per unire le chiese di Santa Lucia, accordo tra comune di Roseto e Ruzzoreti per il passaggio della pista in una zona vincolata da un esproprio. I lavori, la scuola locale è stata bonificata e sono state realizzate griglie di captazione che portano l'acqua a defluire in un canale che si trova su un terreno privato. Andiamo ora alla pagina dello sport della città per la Serie C. Caidi tiene in ansia il Teramo pronto. Altobelli, il difensore, uscito malconcio a Trieste, non si è allenato neppure ieri. Probabile debba saltare la gara col Gubbio. Ho provato l'assetto con Tulli e Bacio Terracino Larghi e Foggia a punta centrale. Il Gubbio ha messo insieme solo due punti fuori casa, probabile anche un turno di riposo per Stefano Amadio. E poi per la Serie D, il San Nicolo anticipa col Monticelli in campo a Giulianova alle 14.30. Dopo lo 0-1 a Recanati, occasione per allungare la striscia positiva. Campanile senza mozzoni, stallone, non avrà Petrarulo. Prima di andare sul centro e messaggero per le pagine dello sport, diamo uno sguardo ai quotidiani sportivi nazionali che chiaramente sono concentrati sulla sconfitta nel play-off d'andata dell'Italia. Italia che rischia seriamente di non andare ai mondiali in Russia. Allora la Gazzetta dice San Siro pensaci tu e si proietta dunque alla gara di ritorno. La Svezia mince 1-0 e ci mette nei guai. E appunto San Siro pensaci tu, Italia brutta, confusa e ora si gioca tutto in 90 minuti lunedì sera a Milano per salvare il Mondiale. Poi le parole tra gli altri del CT Ventura criticatissimo, il pari era più giusto, l'arbitro ci ha penalizzati. E poi il commento di Luigi Garlando, c'è un solo modo per salvarci, creare calcio. E poi esito del Moto Mondiale a Valencia con la MotoGP che vede questo duello tra Dovizioso e Marquez. Lo spagnolo è favorito ma Dovizioso attacca, ci vuole di più e Marquez cade. E poi ancora andiamo a vedere il Corriere dello Sport. Forza ragazzi, insomma anche il Corriere come la Gazzetta cerca di vedere positivo per la gara di ritorno. Spareggio mondiale l'Italia delude, alla Svezia basta poco per vincere ma lunedì l'impresa è possibile. Poi sul fronte mercato, la sorpresa Goretzka e il Milan ci prova, la trattativa Roma sul Vidal del Barça, l'assalto versalico il Napoli accelera. Invece Tutto Sport resta più sulla partita orrenda. Di ieri sera basta scuse, scrive il quotidiano torinese, ora evitate una figuraccia storica. Questo scrive Tutto Sport con il commento del direttore Paolo De Paola, ci pensino i giocatori. E poi sul fronte Juve, l'allegrata e matura voglia di 3-4-3, Toro, Tifosi e Fila, Ridateci, Casa Nostra, Inter, Menù Bolognese, Donza e Verdi, Milan, Suso, Anzia Real, Enigma, Kalinic. Torniamo ora sui quotidiani abruzzesi e lo facciamo attraverso le pagine del centro. Ecco qui in vista di Bari Pescara, Bari come sappiamo allenato dal pescarese Fabio Grosso, allora la pagina è dedicata proprio a Fabio Grosso da parte del centro. Berlino, le Neule e la nuova vita al Bari pescarese mai in biancazzurro. Ecco chi è l'eroe del Mondiale 2006 che domani sfiderà il Delfino. Il papà tiferò per lui dalla gloriosa Renato Curi alla Coppa del Mondo in Germania, passando per Inter, Lione, Juventus e quel rifiuto ai tedeschi del Wolfsburg che volevano coprirlo d'oro. E qui diversi momenti della carriera di Fabio Grosso con la maglia del Perugia, con la maglia della Juventus e con la maglia azzurra dopo aver calciato in porta e aver realizzato il rigore decisivo a Berlino contro la Francia. Vive a Torino, a Pescara si vede raramente però mamma Loredana Lovizia con la cucina. E intanto sul fronte Pescara, brutte notizie per la difesa, Bobo e Balzano verso il Forfè. Problemi in difesa, il tandem per Rotta Forrasier potrebbe giocare dall'inizio. Ricordiamo che c'è anche la squalifica di Andrea Coda. Per la Serie C, Asta rinforza l'attacco per tornare a vincere. Tocca a Bacio Terracino, il tecnico pensa a un 3-4-3, il difensore caida in dubbio. Il diavolo si scatena contro gli Umbri, 15 reti in tre gare. Invece per la Serie D, l'Aquila, 20 giorni per non smantellare. L'omedi assemblea per il bilancio, l'Avezzano il 22 novembre dal Papa in udienza generale. Oggi il San Nicola Giulianova contro il Monticelli. E poi la svolta tecnica nel Pescara Calcio a 5 con il ritorno di Mario Patriarca al posto di Fulvio Colini. Ho poco tempo, dice Patriarca, ma conosco la squadra. Il nuovo tecnico del Pescara debutta stasera contro la Luparenza e l'Acqua e Sapone a Roma senza Ricci squalificato. Derby, Tombesi, Real Dem in B. E invece passando al messaggero Abruzzo, ecco qui Canutè, un colpo grosso. Gioco di parole per Canutè che è stato allenato da Fabio Grosso nella primavera della Juventus. L'ex Juventino si candida per una maglia da titolare a Bari. Bello ritrovare il primo allenatore che ha avuto in Italia sotto la sua guida in primavera Juventina. Sono cresciuto molto, mi piacerebbe segnare proprio contro di lui il mio primo gol. Affronteremo una squadra tosta, servirà un atteggiamento giusto e un po' di fortuna. Allora ascoltiamo le parole di Frank Canutè. Canutè, allora c'è stata quest'amichevole con l'Under 21, un test più che buono in vista della gara di Bari. Sì, sì, era un buon test per la partita di domenica. Siamo stati bravi, poi vediamo un po' domenica. Fabio Grosso tu lo conosci molto bene perché ti ha allenato con la primavera. Quindi insomma, che tipo di partita preparerà secondo te? Secondo me una partita tosta perché lui piace attaccare e difendere. È una bella partita per domenica, mi aspetto una bella partita abbastanza tosta. Ti ricordi il Bari e le posizioni? Sì, un po' sì, però so che il mister è bravo quindi da una parte me lo aspettavo. Il Pescara come deve scendere in campo? Anche il Pescara in maniera decisa, determinata? Certo, un attenzionamento giusto, poi un po' di cattiveria, poi vedremo un po' di fortuna, possiamo vincere la partita. Per quanto riguarda te, come stai dopo qualche settimana ai margini? Adesso ho stato abbastanza bene perché mi sono fatto male due settimane fa, quindi mi sento un po' meglio. Una partita, quella di domenica, importante per il Pescara. Non state attraversando un momento felicissimo, quella in terra pugliese. Già una gara spartiacque secondo te di questa prima parte di stagione? No, secondo me no. È una partita normale che dobbiamo vincere per forza. Non è un gran problema. Vincere per forza? Certo, perché vogliamo vincere la partita. Frank, non è che il primo gol lo fai proprio a Fabio? Sì, per forza signorò domenica allora. Tra poco tornerà anche Proietti nel tuo ruolo, cioè grande concorrenza, come la stai vivendo? Anche tu e Carraro vi siete alternati in queste settimane, con Brugman anche, però... Io mi alleno, non lo so gli altri, però io mi alleno sempre bene, quindi aspetto sempre la scelta del mister. Io mi troverò sempre pronto per aiutare la squadra, quindi a concorrenza si sta per il calcio. Chi dice, a chi continua a ripetere che questo Pescara oggi ha ancora poco di Zemaniano? Frank Canutè cosa risponde? Secondo me ce l'abbiamo il Zemaniano ancora, però le vedrai magari un po' più dopo. Andiamo a chiudere sul messaggero, Serie C Asta prepara un terramo d'attacco contro il Gubbio. L'allenatore Biancorosso pare aver scelto il 3-4-3 con Foggia, Bacio Terracino e Tulli insieme. Per la Serie D, San Nicolò Monticelli è una sfida da play-out. Oggi l'anticipo del campionato di Serie D, la formazione di Campanile cerca conferme dopo il successo di Recanati. Dalla mia squadra voglio la stessa determinazione che ha avuto domenica scorsa. E poi sempre per la Serie D, l'Aquila il tempo passa e non ci sono segnali positivi. Va stese un nuovo manto erboso per l'Aragona, per il basket il Roseto prova a reagire nella trasferta di Bergamo. Gide Marulli ancora assenti, Raffa l'affare si complica. Noi ci fermiamo con questa edizione di Mattino 6. Ringrazio in regia Maurizio D'Agui e vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari, i TG6 delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per l'attenzione e buona giornata.